questo è il torrente longano a barcellona pozzo di gotto il fiume scende e la casa galleggia la tappo tappi d'acqua il fiume biondo è una tappi d'acqua vedete quale è il litro che ti piace scudate la pressione delle acque comunque in ogni caso quando torna torna e pide dall'auto assata nelle case ah 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 per camminare lì torrente cicerata questo è il nostro torrente longano vai 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 no no meno male che stiamo vicino al mare chissà io faccio vedere il mare forte le case costruite nel fiume le case costruite nel fiume per camminare il fiume a